Ben ritrovati, abbiamo diverse cose secondo me oggi da dirci per quella che è stata la conferenza stampa di Tiago Motta pre Juventus-Napoli, tra l'altro una partita molto 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 sentita, almeno personalmente lo è, perché comunque il Napoli è stata la squadra che nell'arco, nel ciclo, nei nove scudetti consecutivi ci ha dato più possibilità, più filo da torcere anche se vogliamo complessivamente, quella che ho sentito davvero più rivale in quell'arco lì, tra l'altro stavamo parlando di un Napoli veramente molto molto forte e poi perché Antonio Conte è Antonio Conte e c'è poco da fare, sarà sempre un allenatore che sarà bello andare ad affrontare e sarebbe ancora più bello andare a battere, c'è poco da fare e poi perché domani sarò allo stadio tra l'altro, domani ci sarà anche Wojciech Czesni allo stadio e sarò lì per salutarlo come merita, quindi ci vediamo assolutamente a Torino domani pomeriggio, Juventus-Napoli si gioca all'ora 18 e ricordatevelo, cercate di gestire la vostra agenda in questo modo, la Champions è alle spalle, che Juve-Napoli sarà? Sarà una grande partita con giocatori forti, vedremo cosa potremo fare domani con il nostro pubblico, noi giocheremo il nostro calcio e proveremo ad andare avanti così. Gatti ha smaltito il problema alla caviglia? Sì, è a disposizione, mancheranno soltanto con sé Sao e Milik, tutti gli altri saranno disponibili. Gatti ha fatto allenamento bene e sarà nel gruppo. Molto molto bene questa cosa, aggiungo io, perché ieri abbiamo parlato un pochettino nel video di come affrontare il Napoli della presenza, oppure no, di Federico Gatti, quindi avere Gatti o non avere Gatti fa tutta la differenza del mondo in questo momento per gestire Lukaku, molto bene così. Lei è stato allenato da Antonio Conte ad Euro 2016, ha qualche ricordo come era il rapporto con Conte, tra l'altro ero presente ad Euro 2016 Italia-Belgio 2-0, gol di Giaccherini e Pellè, se non erro, dovrebbero essere questi i marcatori e quell'Italia, era veramente una grandissima Italia. E Tiago Motta dice, è stato un grande piacere lavorare con lui, è stato un europeo interessante, interrotto contro una squadra forte. Anche noi eravamo una grandissima squadra con giocatori forti, ma non abbiamo raggiunto l'obiettivo. Il rapporto con Conte è sempre stato fantastico. Quindi l'idea dell'Italia, dato che Tiago Motta dice che non abbiamo raggiunto l'obiettivo, era di vincere l'europeo? Quell'europeo? Contro squadre con Spagna, Germania, Francia, con quell'Italia che avevamo? Cioè, per me, quell'europeo è stato super positivo per l'Italia, anche senza la vittoria, perché bisognava partire, guardare dove si partiva. Questo potrebbe essere un piccolo retroscena, no? Della serie Conte ci aveva invece messo in testa che lo potevamo vincere. E allora se Conte pensava davvero di poter vincere quello europeo, figuratevi se non pensa di poter vincere questa serie A, ci mancherebbe altro. Il Napoli senza coppia ha un vantaggio, questa ovviamente tormentone che siamo portati dietro anche l'anno scorso. Il vantaggio ce l'ha sicuramente, che poi questo vantaggio si traduca nel vincere lo scudetto è tutto un altro discorso. Questa è la mia risposta. Invece Tiago Motta dice, ma chi lo sa? Noi sapevamo del nostro calendario prima di iniziare. Vogliamo affrontare partita dopo partita e la prossima è il Napoli, che è una buona squadra. Sono una squadra costruita per lo scudetto. L'hanno vinto poco fa con un calcio straordinario. Noi andiamo sulla nostra strada con l'ambizione di migliorare e fare una grande prestazione, anche per il pubblico che vorrà a sostendere la squadra. Io domani sarò lì e quindi mi aspetto, mi auguro questa grande prestazione e questo grande risultato. A Cagliari Lukaku ha ricevuto 21 passaggi progressivi consecutivi. Cosa si può fare contro il Napoli e che cosa noti sui fogli? Allora, che cosa noti sui fogli è una domanda che c'eravamo fatti anche noi dalla primissima conferenza stampa di Tiago Motta. E quella dei passaggi progressivi è interessante perché si collega al contenuto che vi ho portato ieri, che vi invito ad andare a vedere, lo trovate qui sopra nelle schede. E Tiago Motta però sui fogli dice, io noto tutto, voi prendete appunti, io anche. Non vuole dare informazioni. Mi fa morire da ridere quando dà queste risposte secche, perché ci rimanga male, no? I giornalisti si aspettano altre risposte, poi Tiago Motta va con la faccia come per dire, è tutto qui. Noi lavoreremo da squadra, con o senza palla. Andremo a pressare bene insieme e poi difenderemo ricompattandoci senza lasciare spazio a giocatori come Kvara che giocano perfettamente nella zona tra le linee. Lukaku si appoggia tantissimo sull'ultimo difensore. Lo sappiamo. E proveremo a fare il gioco che conviene a noi e non a loro. Quindi sono molto anche curioso di capire chi andrà direttamente su Lukaku, se Bremer o Gatti. Io immagino che ci andrà Bremer perché comunque l'abbiamo già visto anche negli anni scorsi andare a lottare con Lukaku, un giocatore anche che magari conosce un pochettino meglio. Però non sarei stupito nemmeno di vederci Gatti perché in questo momento Gatti è in superforma. Come si lavora su questo Vlaovic in questa stagione? E Tiago Motta dice, con l'ambizione sana di migliorarsi sempre, ma non solo a livello emotivo. Dusan e io possiamo migliorare, tu puoi migliorare, tutti possiamo migliorare. E non solo emotivamente. Il gioco non è solo motivazioni, ma tante cose che servono a far giocare bene la squadra. Sta molto bene. Parliamo tutti i giorni. È disponibile? È positivo? L'ultima partita la giocata alla grande con un ottimo lavoro difensivo e offensivo, creando situazioni per i compagni. Sono molto contento del suo lavoro e deve continuare così. Tiago Motta continua a coccolare Vlaovic. Pubblicamente ha sempre speso parole meravigliose per Vlaovic. Domani sarebbe molto bello vedere Dusan segnare. Sarei felicissimo. Che cosa è migliorato dopo Juventus PSV dato che si era parlato di miglioramenti? Tiago Motta dice, tutto. Perché dobbiamo avere l'ambizione di essere meglio sempre, crescere e affrontare la prossima partita con qualcosa in più. Ogni giorno vogliamo fare meglio. Mi fa piacere sentire che questo è l'obiettivo. Sempre qualcosa in più, sempre il miglioramento, sempre la crescita. Questo è il modo veramente migliore per non accontentarsi mai e non appoggiarsi mai, per non vivere di rendita semplicemente. Napoli-Spezia 0-1. Quanto è cambiato Tiago Motta? E lui dice, sono cambiato tanto. È passato giusto qualche giorno, ma è normale. Si migliora, si cambia, è un'evoluzione continua. In quel momento abbiamo fatto una partita interessante. Io ero in difficoltà e la squadra era in difficoltà. Ma con quella vittoria poi è andato tutto molto bene. Oggi è cambiato tutto. Alleno un'altra squadra e affronteremo al massimo il Napoli con rispetto, cercando di imporre il nostro gioco per arrivare al risultato. Io me la ricordo quella partita. Forse abbiamo visto addirittura il live insieme su Twitch. è stata una partita in cui lo Spezia non ha mai tirato in porta e il Napoli ha bombardato invece la porta avversaria. E credo che lo Spezia abbia vinto con zero tiri nello specchio. Credo l'unica partita che abbia mai visto nella mia vita con zero tiri nello specchio in cui vince la partita. Lo Spezia addirittura mi pare che abbia fatto un'ottima prestazione a Gudelo. Vado anche a tirar fuori queste cose qui. E già lì avevo visto che Tiago Motta era un bravissimo allenatore, perché quello Spezia era disastrato, praticamente condannato dal giorno zero alla retrocessione. Quello invece era il primo Napoli di Spalletti che stava andando molto bene, perché prima della Coppa d'Africa quel Napoli andava veramente fortissimo. E lì ho proprio detto, cavolo, che cosa ha fatto Tiago Motta? Che bravo. Tra l'altro poi lui finisce quella stagione, salva lo Spezia, viene esonerato, anche se c'era una clausola che in caso di salvezza doveva scantare un rinnovamento automatico, un rinnovo automatico, è stato fermo un'estate e poi la malattia di Mialovic l'ha portata a Bologna e il resto è storia. Oggi sono 100 giorni di Juve, se dovessi darle un foglietto in cui se firme vince tre Scudetti fila come conte, firmerebbe o ha ambizioni di vincere qualcosa anche in Europa? Perché vincere lo Scudetto esclude il fatto di vincere in Europa, questo era quello che mi domando io. Tiago Motta dice, io non ho il foglio, quindi questa domanda non ha senso, ma anche se lo porti non vale tanto, perché io penso alla giornata. Abbiamo fatto un grandissimo allenamento, abbiamo messo qualcosa in più per domani, io oggi sarò tutto il giorno al centro sportivo per preparare la partita e il futuro, stasera poi arriva la mia famiglia, è una fortuna perché da un po' che non li vedo, passarò la serata con mia moglie e le mie bambine, questa è la mia vita, quello che accadrà lo vedremo, ma mi impegno al massimo ogni giorno e questa è già una grandissima soddisfazione. Perché è il classico del giornalismo, queste sono le cose che piace dire a noi tifosi quando faccia le chiacchiere tra di noi e robe del genere, però gli allenatori non possono guardare così tanto a lungo termine pubblicamente, non possono farlo, sarebbero avuto un valore clamoroso. Quindi bravo Tiago Motta a parlare invece della soddisfazione legata al proprio lavoro e del miglioramento e del leader che c'è dietro ogni singola partita, non dietro tre stagioni pronosticate al volo in conferenza stampa. Come stanno i centrocampisti? Dato che c'è abbondanza nel reparto, è bene per lei tenere la motivazione alta per tutti? Tiago Motta dice questo fa parte del mio lavoro, tanti di loro si stanno allenando molto bene, per la prossima partita metterò quelli che vedo stare meglio, gli altri continueranno a lavorare. Per me ci sono quelli che giocheranno domani ma anche quelli che giocheranno le prossime e questi sono molto importanti per me. Abbiamo davvero bisogno di tutti in una stagione lunghissima, ci sono quelli che giocheranno dopo e io devo alzare l'animo di chi gioca meno ora perché devono capire che con un minuto 10, 15 o 90 devono fare la differenza, anzi possono fare la differenza e devono continuare così. Questo è un discorso che si fa troppo poco. Ogni allenatore ha una gerarchia, ogni squadra ha una gerarchia e quindi ci sono dei giocatori che nelle gerarchie partono dietro. Possono ribaltarle però quelle gerarchie con l'allenamento e mantenendo sempre un atteggiamento positivo e Tiago Motta proprio di questo parla. Juve e Napoli partono da posizioni molto distanti, ha detto Conte, ma lei non mi sembra d'accordo dato che ha detto che il Napoli può vincere lo scudetto. Tiago Motta dice giustamente ma non è un discorso di condividere l'opinione di qualcuno, sono fatti, è la realtà, poco tempo fa hanno vinto lo scudetto e come l'hanno vinto? Con un grande calcio espresso. Sono punti di vista al massimo ma non è condividere o meno. Il Napoli è una squadra veramente forte, con qualche cambiamento fatto quest'anno per puntare già da adesso lo scudetto. Noi domani li affronteremo sapendo che sono forti, daremo il massimo, il nostro massimo per competere, per portare a casa il risultato. Poi c'è una domanda, anzi una risposta più che una domanda, molto interessante perché la domanda è un'opinione sull'appello fatto da Conte sui falli nei primi minuti dei giocatori come Kvara. Conte ha detto che lui non ha mai chiesto ai suoi giocatori di fare un determinato fallo per far capire la presenza, il tipo di partita che sarà. Tiago Motta dice io posso parlare dei miei, degli altri giocatori non mi permetto, non mi permetterò mai. I miei non vanno per fare falli, te lo posso assicurare. Sono ragazzi che vanno sempre a giocare al pallone, non si buttano mai, stanno sempre in piedi, cercano di onorare il gioco. Mi viene in mente Nico Gonzalez col PSV che non si butta per terra, avrebbe guadagnato il fallo, rimane in piedi per andare a fare l'assist per McKennie. In un contesto generale, magari dove non dobbiamo nominare, io ho sempre difeso il gioco, i falli pericolosi per me non vanno bene. Ricordate che c'erano tante eltrate pericolose tanto tempo fa dove si faceva fatica a fischiare? Beh, oggi c'è il VAR e questo l'abbiamo risolto. Sulle perdite di tempo stiamo discutendo come migliorare. Le simulazioni sull'altro estremo, il contatto crea rotolamenti e cinema, una cosa troppo teatrale che non fa bene al gioco. Stiamo lavorando per rispettare il gioco e creare uno spettacolo per il pubblico che vuole vedere gioco e contatti. Il pubblico vuole vedere i giocatori giocare a calcio senza falli pericolosi, simulazioni e perdite di tempo per creare spettacolo. Allora, sul discorso delle simulazioni e delle perdite di tempo, 101% d'accordo, 101%. Sul discorso dei falli pericolosi, 110% d'accordo. Ma non fatemi credere, davvero non fatemi credere, che in un ambiente ultracompetitivo come la Serie non c'è non la violenza, non la malizia, ma l'intelligenza di dire a determinati giocatori che altri giocatori avversari devono cercare di essere intimoriti con dei metodi di gioco comunque compatibili con il concetto di sportività. Questo non ci credo. Io, Conte, non l'ho mai visto giocare da calciatore. Sono troppo piccolo, però Tegomotta me lo ricordo bene. Era uno che comunque la gamba ce la metteva e grazie al cielo, per l'amore del Signore, dato che il calcio è uno sport di contatto in cui i falli fanno parte del gioco. Io aggiungo che quando sei allo stadio, una determinata entrata, ma anche pulita sul pallone, non sto parlando dell'entrata scomposta per far male l'avversario, un'entrata pulita sul pallone, un gran recupero difensivo è in scivolata. Non dico che sia emozionante tanto quanto un gol, ma poco ci manca perché si alza proprio il livello di adrenalina e dentro la bolgia il contesto della partita, lo stadio e la confusione è meraviglioso, veramente meraviglioso. Quindi per me anche delle entrate, alcune entrate possono essere considerate spettacolo, non solo il tipo di gioco espresso, non soltanto il gol, l'assist o la parata, ma anche degli interventi difensivi, delle scivolate o dei contrasti di gioco stessi, che magari dalla tribuna vedi in un modo e poi quando ti riguardi successivamente il replay in televisione dici ma l'ho visto proprio al contrario. Quindi concordo quasi totalmente con la visione di Tiago Motte e di Conte, però non ci credo, perdonatemi, non ci credo che a questi livelli non si chieda ai giocatori non di fare male, per l'amor di Dio, questa proprio lasciamola fuori, totalmente contro i miei ideali, però di mettere in riga gli avversari con dei metodi, ripeto, sempre permessi dal regolamento. Questa è un po' la mia lettura. Le ultime due sono state un doppio pareggio, ma col Napoli sarebbe contento di un pareggio? Tiago Motta ferma subito e dice no, aspetta, 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 non abbiamo vinto, abbiamo fatto due pareggi con due squadre diverse e con partite diverse, domani sarà un'altra squadra e un'altra partita diversa. Noi, come sempre, con una grande prestazione vogliamo portare la partita dalla nostra. Fare una domanda all'allenatore della Juve sarebbe contento per un pareggio? Hai due strade, o fai la figura di merda, come in questo caso, o fai lo scoop della vita perché l'allenatore ti dice, Dio boh, un pareggio sarebbe molto bello, magari. L'allenatore della Juventus non può dirti una roba del genere alla quinta giornata, non esiste, quindi domanda siccome sprecata per come ha risposto Tiago Motta. E poi gli ha chiesto, ma non ha risposto alla fine, ha preso qualcosa da Conte come allenatore e vi sentite più simili come allenatore o come persona? Tiago Motta si è messo a ridere dicendo ma siamo tutti diversi e in questo momento sei troppo concentrato su me, Conte, ma domani si gioca Juventus-Napoli e i protagonisti saranno i calciatori che scenderanno in campo a fare un grande lavoro, sperando che i nostri possano dimostrare il valore. Tutto il resto conta pochissimo, finalmente qualcuno doveva dirlo, basta parlare sempre degli allenatori, basta pensare che sia Conte contro Tiago Motta e Juventus contro Napoli, la Juventus di Tiago Motta contro il Napoli di Conte, come la Juventus di Vlaovic contro il Napoli di Lukaku, ma sono sempre Juventus e Napoli. Quello deve essere il focus, perché io domani non vado allo stadio per tifare Vlaovic, Tiago Motta, Locatelli, Bremer, Gatti, Copmeiner, chi più ne ha più ne metta, vado a tifare la Juventus, come ho sempre fatto e come sempre farò, a prescindere da chi sono i giocatori, gli allenatori, i dirigenti, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie mister per aver detto questa cosa sacrosanta banale, ma che qualcuno doveva dire. E poi un'altra domanda sprecatissima, è il suo primo Napoli-Juventus dall'allenatore della Juve. C'è stata la possibilità del contrario, cioè lei è allenatore del Napoli se vuoi dare la Juve? Rispondi a Tiago Motta? No. Che domande c'è, dai, davvero. È importante questa cosa? Ma anche se fosse stato vero, ha fatto bene a rispondere no, guarda. Se anche ci fosse stato veramente il contatto con Napoli vicinissimo a firmare col Napoli, è importante questa informazione alla vigilia di Juventus-Napoli? Sì o no? La risposta l'ha data a Tiago Motta? No. La Juventus di oggi può far giocare, può permettersi di far giocare sia Douglas Lewis sia Cobb Mainers? E Tiago Motta dice, tutto è possibile, soprattutto trattandosi di giocatori forti. Poi vedremo domani se dall'inizio o se ci sarà la possibilità partita in corso, ma tutto è possibile. Esonero De Rossi, anche questa domanda veramente in topic rispetto a Juventus-Napoli, perlomeno di attualità. L'ha sorpresa? L'ha sentito? Sì, mi ha sorpreso. Gli ho mandato un messaggio che ovviamente resterà privato tra di noi. Già tanto che abbia risposto, ha risposto in maniera breve, coincisa, perché non si tratta ovviamente di qualcosa di importante ai fini della partita. Anch'io ci sono rimasto male, la scelta di Juric è un po' incomprensibile, anche se poi sta venendo fuori un po' di altarini sulla questione De Rossi. Affari della Roma, sinceramente, non ho nemmeno voglia né tempo di immergermi. Ragazzi, questi erano i punti principali del video di oggi, della conferenza stampa pre-partita di Juventus-Napoli. Aspetto le vostre considerazioni qui sotto nei commenti e noi ci vediamo domani allo stadio. Ciao!